Il cammino intrapreso la scorsa primavera dal comune di Gravina in Puglia, che aveva come obiettivo quello di favorire l'adozione di aree verdi da parte dei privati, è giunto a compimento. Premiate quelle che, oltre al rispetto dei requisiti formali fissati nell'avviso pubblico, hanno meglio interpretato con i loro progetti il duplice scopo perseguito dall'amministrazione comunale, responsabilizzare la comunità e garantire una sempre maggior tutela degli spazi pubblici. L'esperimento, precisa l'assessore al verde pubblico Gino Lorusso, si estenderà presto ad altri beni comuni, ma essendo l'inizio incoraggiante per come le diverse richieste pervenute testimoniano, le prospettive sono rosee. Iniziamo dalle principali rotatorie che per i prossimi due anni, gratuitamente e senza scopo di lucro, saranno gestite dai privati che ne hanno fatto richiesta sulla base di idee progettuali ben documentate, ritenute meritevoli dal settore ambiente guidato da Franco Parisi. Nello specifico, la rotonda di Viarchimede, nel cuore della zona PIP, sarà presa in consegna dalla platform Design SRL. La directa SRL curerà le sorti della rotonda di via Spinazzola, mentre Silvion SRL e Unica si faranno carico rispettivamente di quelle di via Bari e di via Curato. A quanti hanno inteso rispondere al nostro appello e ai tanti che hanno chiesto di fare altrettanto per altri spicchi di città, va un sincero ringraziamento a nome dell'intera comunità gravinese. È un passo importante e decisivo per la costruzione di un percorso di cittadinanza attiva consapevole. È questo l'orizzonte al quale tendere nella consapevolezza che solo attraverso la collaborazione tra cittadini e istituzioni si potrà costruire, pezzo dopo pezzo, passo dopo passo, la gravina che vogliamo. Con queste parole il sindaco Alessio Valente ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al bando.